droga due arresti a niscemi marito e moglie nei guai c'è un terzo indagato calta nissetta festeggia il record del cannolo massiccia partecipazione di pubblico in piazza perdita idrica in via bisolati intervento di calta acqua lavori sul percorso della coppa nissena organizzata dall'automobile club di calta nissetta in programma dal 16 al 18 calcio l'altra nissa punta solo sui giovani in collaborazione con l'ella sverona sono 114 gli episodi di spaccio documentati dai carabinieri di niscemi tra il giugno e l'agosto del 2021 e che sono costati l'arresto per una coppia di coniugi del paese in manette sono finiti giacomo buccheri 32 anni e la moglie marianna lucia amato 31 anni nei confronti dell'uomo il gip del tribunale di gela roberto riggio ha disposto la custodia cautelare in carcere mentre per la moglie di quest'ultimo è stata decisa la misura degli arresti domiciliari una terza persona invece indagata a piede libero per favoreggiamento in quanto secondo l'accusa aveva aiutato i due presunti pusher a eludere le indagini ma il giudice in questo caso ha respinto la richiesta di applicare la misura del divieto di avvicinamento a buccheri amato avanzata dal sostituto procuratore della città del golfo luigi lovalvo un lavoro certosino quello portato avanti dagli investigatori dell'arma di niscemi che hanno documentato i vari episodi di spaccio di cocaina ashish e marioana grazie a una serie di appostamenti e pedinamenti nel corso dei quali i militari hanno realizzato numerosi filmati in base a quanto si evince dalle oltre 100 pagine dell'ordinanza del giudice l'indagine è partita dopo una segnalazione arrivata alla stazione dei carabinieri successivamente i militari avevano anche eseguito diverse perquisizioni nel corso delle quali avevano trovato e sequestrato stupefacenti capendo così di essere sulla pista giusta 21 metri e 43 centimetri caltanissetta il suo record il cannolo più lungo del mondo momento di festa per la città e per tutta la macchina organizzativa da aristoworld agli enti e istituzioni e privati che hanno collaborato presenti anche le autorità in piazza garibaldi per l'evento durante il quale è stato anche ricordato l'undici settembre ci hanno provato i pasticcerini segni da tutta la sicilia ci sono riusciti sarebbe bastato molto meno per superare il record precedente ma la squadra capitanata dal maestro pasticcere nonché cavaliere lillo de fraia ha puntato in alto verso il record che sarà difficile da battere finalmente stanotte posso dormire tranquillo ma non dormirò perché la stanchezza delle gambe non mi farà dormire lo stesso sono felice che abbiamo raggiunto il record sono felice perché c'è stato diciamo l'aiuto di tutti tutti siamo stati partecipi e collaborativi la città mi vuole bene io voglio bene la città e dico che tutti insieme abbiamo lottato per dare paternità a questo a questo cannolo che leggendo non leggenda adesso abbiamo dato un titolo di maestà e sua maestà il cannolo di carta nissetta qualche cosa diciamo l'abbiamo dato di appartenenza quindi dobbiamo dare un futuro che tutto come non deve finire qua assolutamente ma dobbiamo dare un seguito col brand del cannolo di carta nissetta che sarà appunto un 10 centimetri 80 grammi che dobbiamo farlo conoscere mangiare e gustare in tutto il mondo 400 kg di ricotta compresa la buccia saremo più di 500 kg numerosi professionisti dai più giovani alle mani più esperte che hanno dato il loro contributo almeno 120 tanto che siamo tanti che adesso diventeremo pochi perché andare a mangiare queste migliaia di persone diventeranno poche faremo fatica è una festa per la sicilia è una festa per le nostre eccellenze è una festa per questa città e questa folla festante intorno a noi lo dimostra è un successo per il territorio perché è attraverso le nostre eccellenze e no gastronomiche e agroalimentari che la sicilia costruisce il suo futuro se la sicilia vuole un grande futuro deve guardare imparare dal suo passato viva la sicilia e viva il cannolo e viva carta nissetta tanti nisseni che hanno affollato il centro storico in attesa di degustare il cannolo di carta nissetta che aveva appena conquistato il record e di condividere così un momento di orgoglio per l'intera città è bellissima che risalta la città di calta nissetta speriamo che ce ne saranno altre per condividere questo questo evento speciale che ci rappresenta in tutto il mondo è una bella iniziativa così almeno tutto il mondo conosce che a calta nissetta attualmente ai guines dei primati per il cannolo il cannolo più lungo del mondo un problema alla rete idrica ha causato una perdita d'acqua nella zona di via leoni da bissolati nel tratto che separa il palazzo di giustizia dalla caserma della guardia di finanza alcuni cittadini hanno notato una copiosa perdita d'acqua che ha dato origine a un vero e proprio fumiciattolo in un tratto dove tra le altre cose l'asfalto è completamente inesistente e hanno subito segnalato l'accaduto alla nostra redazione anche a calta acqua le immagini realizzate dal nostro operatore documentano il disservizio visto che nell'area c'erano parecchi mezzi parcheggiati e la strada era diventata quasi impraticabile per i pedoni l'accumulo di acqua infatti dovuto alla copiosa fuoriuscita idrica ha formato in alcuni punti delle pozzanghere melmose l'asfalto infatti non è uniforme in alcuni tratti è del tutto mancante in quanto detriti e terriccio ne hanno preso il posto una volta partita la segnalazione sono arrivati sul posto tecnici operai di calta acqua che hanno lavorato a lungo per identificare la natura del problema e per porvi il rimedio riportando la situazione alla normalità chiedono interventi di manutenzione per migliorare le condizioni del manto stradale oltre che della segnaletica verticale orizzontale i residenti della zona di contrada la spia un'arteria fondamentale per la viabilità in entrate in uscita da calta nissetta visto che si tratta di fatto di un tratto della statale 122 bis in prosecuzione di via borremans la quale collega la città al bivio verso la bretella della statale 640 che a sua volta il collegamento per gli ingressi dell'autostrada a 19 palermo catania oltre che per santa caterina segnalazioni che arrivano dal presidente del comitato di quartiere mangialasagne salvatore scarpulla e dal rappresentante del comitato spontaneo la spia santuzza vincenzo mattina entrambi hanno sottolineato la presenza di buche avvallamenti piuttosto pericolosi lungo il tratto di strada interessato ma i problemi non finiscono qui visto che nella zona sono presenti anche erbacce ai margini della carreggiata che sarebbero estirpate e negli anni scorsi infatti si sono anche verificati degli incendi la carreggiata inoltre è piuttosto stretta e questo finisce per rendere meno agevole la viabilità visto che sulla ss 122 bis transitano anche autobus e camion con stazza superiore alle 20 tonnellate sono stati completati i lavori alla linea ferroviaria tra calta nissetta centrale xir brfi rete ferroviaria italiana infatti comunica che sono terminati i lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e dunque si riparte con la regolare circolazione sulla catania palermo sulla palermo trapani e sulla catania calta girone sarebbero rientrati anche nei tempi previsti per i lavori nel tratto che interessa il capoluogo nisseno gli interventi per un importo complessivo di più di 40 milioni di euro sono stati avviati il 12 giugno interessate le linee catania palermo tra bicocca e l'ercara di ramazione linea catania calta girone fra lentini di ramazione e calta girone linea palermo trapani via castelvetrano tra cinisi e castelvetrano e infine fra calta nissetta centrale e calta nissetta xir brfi ed in particolare sono stati effettuati dei lavori connessi al raddoppio dei binari tra bicocca e catena nuova interventi strutturali nella galleria magazzinazzo fra bicocca e l'ercara di ramazione si legge interventi di manutenzione straordinaria fra calta girone e lentini di ramazione lungo le gallerie fra cinisi e castelvetrano e attività connesse alla demolizione del cavalca ferrovia anas fra calta nissetta centrale e calta nissetta xirbi questi lavori rientrano in un quadro complessivo di investimenti che consentirà di creare le condizioni si legge ancora nel comunicato per conseguire gli obiettivi di miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio come stabilito nell'ambito dell'accordo quadro per i servizi di trasporto pubblico locale sottoscritto fra regione rfi lo scorso marzo si precisa ancora tale scenario anche grazie agli investimenti previsti del pnr rappresenta un'importante opportunità per creare le condizioni di miglioramento dei collegamenti regionali 16 nuovi casi in provincia e di questi soltanto 3 a calta nissetta questi dati secondo l'aggiornamento dell'aspa nissena dell'11 settembre relativo alle 24 ore precedenti i 16 pazienti positivi al sars cov 2 sarebbero tutti in isolamento domiciliare e per l'esattezza sono 4 di gela 3 di calta nissetta 2 di mussomeli 2 di resuttano 1 di mazzarino 1 di riesi 1 di san cataldo 1 di sera di falco e 1 di sutera dimesso dalla degenza ordinario un paziente di niscemi 40 i guariti dal covid 19 19 pazienti di gela 9 di calta nissetta 5 di niscemi 2 di mussomeli 1 di delia 1 di mazzarino 1 di riesi 1 di san cataldo e 1 di acquaviva platani in tutta italia invece nuovi casi sono 12.317 e di questi in sicilia 707 questi numeri dell'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente che arrivano dal bollettino dell'11 settembre scaricabile dal sito tematico dedicato del ministero della salute l'edizione del centenario della coppa nissena si avvicina e lo storico tracciato si rifà il look sono infatti in corso gli interventi tra il ponte capodarso e il villaggio santa barbara per realizzare i nuovi tratti di asfalto in modo da rendere il percorso il più sicuro possibile la coppa nissena infatti in programma per questo fine settimana dal 16 al 18 settembre e quest'anno sarà valevole come round conclusivo del campionato italiano di velocità montagna oltre che settimo appuntamento del campionato italiano velocità salita autostoriche prova di trofeo italiano velocità montagna sud e valida anche per il campionato siciliano velocità salita per auto moderne storiche per questo motivo il presidente dell'automobile club di caltanissetta carlo alessi si è impegnato in prima persona nell'avviare tutte le iniziative per organizzare al meglio l'ormai imminente edizione della coppa nissena e tra queste rientrano anche la collaborazione con gli enti locali e l'anas che ha infatti predisposto la stesura dei nuovi tratti di asfalto lo stesso avvocato alessi insieme ai vertici dell'aci si è detto grato nei confronti dell'ente stradale per il lavoro in corso di svolgimento l'automobile club ha sottolineato come tali interventi sulle strade per aumentare la sicurezza di un evento sportivo finiscano per ricadere in maniera positiva sull'intero territorio lo sport club nissa 1962 porta un nome importante a caltanissetta quello di nissa fondate nel 2010 natale ferrante con l'intento di fare solo settore giovanile dal 2013 al 2017 ha disputato per cinque anni campionati nella lega nazionale dilettanti approdando in quattro stagioni dalla terza categoria all'eccellenza retrocessa nel 2017 per il caso castelbuono dopo che si era salvato sul campo ai play out fu fatale il doppio spareggio con un atletico campo frango ha deciso di proseguire con il solo settore giovanile questo è il tredicesimo anno che siamo affiliati con la federazione italiana gioco calcio da qualche anno ci occupiamo soltanto di settore giovanile e di attività di base siamo contentissimi abbiamo fatto pure il dilettantismo però è giusto concentrarci visto la nostra esperienza sull'attività di base è sul settore giovanile e anche quest'anno abbiamo ricominciato già dal primo settembre con le attività dell'attività di base siamo alle vigili di una stagione sportiva 2022 2023 l'anno scorso lo sport club nissa 62 con i giovanissimi il regionale era arrivata alla semifinale regionale perdendo a enna quest'anno avete deciso di fare un passo indietro a favore delle società alleate la cella calcio cosa verrà lo sport club nissa a livello di settore giovanile ed attività di base va più che un passo indietro abbiamo continuato questa questa collaborazione con gli amici della cella calcio e quest'anno ci sarà anche la società new team e già l'anno scorso abbiamo iniziato questa collaborazione questa collaborazione ha portato grandi risultati abbiamo raggiunto noi commander 15 la finale regionale semifinale regionale dopo 15 anni dall'ultima volta con la nissa del presidente mannino l'abbiamo raggiunto nell'anno scorso la cella calcio invece ha raggiunto grandi risultati sia con l'under 17 sperimentale che con l'under 15 sperimentale quest'anno abbiamo deciso che fosse la cella calcio a continuare questo progetto è un progetto non della sport club nissa della cella calcio ma un progetto giovanile per per tutta la città naturalmente quest'anno noi faremo invece come sport club nissa soltanto i provinciali e naturalmente tutte le categorie afferenti alla scuola dell'attività di base dell'lnd potete pregiarvi di un'importante affiliazione con il verona che ormai durerà qualche anno in che cosa consiste e cosa farete quest'anno a questo punto di vista ma è da questo è il quarto anno che diciamo seguiamo la società professionistica dell'ellas verona l'abbiamo scelto perché ci seguono nella preparazione nell'organizzazione delle nostre attività d'allenamento l'abbiamo scelta perché i tecnici i loro tecnici professionisti ci seguono e vengono anche a caltanistetta a seguire i nostri ragazzi e poi per noi e anche per noi alleatori e noi società è un modo per crescere insieme a una società storica e professionistica c'è un terzetto in testa alla classifica del girone a del campionato di eccellenza dopo due giornate di campionato acragas cus palermo e sciacca sono a punteggio pieno non ha giocato la nissa la partita con l'oratorio sanciro e giorgio è stata rinviata a mercoledì 21 per l'indisponibilità dello stadio marco tomaselli con l'accordo tra le due società i biancoscudati torneranno in campo domenica all'esseneto di agrigento contro l'acragas ieri gli acragantini hanno conquistato il secondo successo di fila sul difficile campo di mazzara 1 0 a 4 senza attenuanti per la squadra di casa in gol a monsur baio pavisic e vitelli un derby molto sentito quello tra le massime espressioni calcistiche dei due capoluoghi fin dai tempi in cui le protagoniste erano la nissena e l'agrigento negli anni 30 del secolo scorso gli altri risultati gel fc sconfitto in trasferta dalla cus palermo con un parentorio 4 a 2 reti bianche 0 a 0 il match tra don carlo misilmeri e mazzarese prima vittoria per l'enna tra le mura amiche contro il castellammare 3 a 1 profavara corsaro 0 a 1 sul campo del resuttana san lorenzo seconda vittoria dello sciacca sul casteldaccia 3 a 1 né vinti né vincitori tra leonfortese parmon vala 0 a 0 la classifica acragas cus palermo e sciacca 6 punti enna don carlo misilmeri e parmon val 4 casteldaccia e profavara 3 mazzarese 2 brattorio sanciro e giorgio mazzare leonfortese 1 chiudono a 0 punti resuttana san lorenzo nissa e castellammare ben trovati in un aggiornamento con le previsioni di trapimeteo giornata di lunedì che a livello europeo vedrà un campo di alta pressione interessare tutto il mediterraneo centrale e i paesi oltre alpe una zona di bassa pressione di fatti si troverà molto più ad ovest a interessare la penisola iberica e la francia qui con rovesce temporali anche intensi non interesserà l'italia di fatti possiamo notare l'assenza di precipitazioni su tutto lo stivale pressione medio alta in sintesi la mappa dell'italia ci conferma una giornata soleggiata cieli serena poco morosi con temperature estive un mancaldo moderato valori diffusamente tra i 28 e i 31 gradi dettagli ulteriori approfondimenti li trovate scaricando l'app di travi meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno caltanissetta servizio diurno pasqualino via xiboli villaggio santa barbara servizio notturno al duomo via filippo paladini farmacie di turno cieli